Il raduno di mountain bike nella giornata di domenica ha evidenziato ulteriormente il lavoro di restauro della porta campana a Montemarciano. Adesso manca davvero solo l'ultimo intervento con il ripristino di una pavimentazione similmedievale nella struttura che è il simbolo della frazione terranovese. Abbiamo preso settimana scorsa la delibera di approvazione della seconda parte del progetto di recupero e ristrutturazione della porta campana di Montemarciano. La prima parte dei lavori si è già conclusa, è possibile già per tutti, credo i tanti frequentatori della festa anche nella sagra che c'è stata nella frazione l'hanno potuta apprezzare. Adesso faremo un ulteriore affidamento per circa 20.000 euro per la ricostruzione della pavimentazione originaria che era sotto la porta e quindi un'adeguata illuminazione in maniera così da completare tutto quello che è la dignità diciamo di quello che è una delle porte e delle cartoline del nostro territorio, non solo di Trenuova ma del Valdarno. E presto avremo parola dell'assessore e anche un'idea definitiva della tempistica per l'esecuzione di tale lavoro. Grazie a tutti.